Eugenie Di York incinta per la seconda volta, il Royal Baby, arriva a due anni dalla nascita di August Eugenie Di York, aspetta il suo secondo figlio. A due anni dalla nascita di August, la principessa annuncia la gravidanza. Il nuovo Royal Baby, sarà tredicesimo nella linea di successione. Eugenie Di York e Jack Brooks Bank, aspettano il secondo figlio. Eugenie Di York 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 Tra le altre cose, Terry ha accusato il fratello William di averlo fisicamente aggredito durante una lite avvenuta a causa della moglie, Meghan Markle.